Siamo nel dopogara di questo confronto, questo tanto derby tanto acceso tra l'Ele Nettuno e il Città di Anzio. Tre punti di vantaggio all'Ele Nettuno, in questa sfida non sono bastati, è arrivata la sconfitta dopo un piccolo movimento positivo, almeno in questa parte del campionato. Zaino? È stato un piccolo momento di defaianza oggi, abbiamo visto il primo tempo, abbiamo giocato molto male, la squadra dopo il secondo tempo un pochettino meglio, ma non tanto. Peccato perché veniamo da cinque vittorie consecutive, speravamo di fare il risultato anche oggi, però oggi non siamo stati in campo come volevamo, come abbiamo preparato la partita. Ecco, abbiamo notato almeno nella seconda parte del secondo tempo un po' un gioco di parole, però una squadra molto stanca, a tratti anche un po' svogliata. Sì, abbiamo dato questa immagine, siamo entrati in campo, il primo tempo, ugualmente, i primi dieci minuti noi eravamo assenti, abbiamo lasciato la partita a loro e anche verso la fine non abbiamo dimostrato di avere voglia di ricuperare la partita. Bene, adesso bisogna subito dimenticare perché sì, è vero c'è una settimana per il prossimo impegno, ma servirà molta dedizione, soprattutto tanta determinazione durante la settimana per preparare la prossima sfida. Eh sì, dobbiamo lavorare bene perché abbiamo la sfida con la Cimil, con la terza in classifica, quindi ci teniamo a fare bella figura. Ecco, è stata sprecata a questo punto un bonus per poter allungare proprio in vista della prossima sfida in casa del Latina Scalocemi. Eh sì, è un passo falso che abbiamo fatto in casa, quest'anno ce ne abbiamo avuto più di qualcuno, in casa specialmente, però vabbè ci rimboccheremo le maniche e ripartiamo senza problemi. Bene, da una sponda dell'N1 la squadra sconfitta con le parole del tecnico Massimo Zaino che ha esaminato un po' la gara, ci trasferiamo da una delusione ad un sorriso piuttosto eloquente, come ci fa capire dalle prime parole. Finalmente arriva la vittoria, arriva un po' di gioia in questo spogliotoio che sembrava un po' perso e i risultati deludenti del cittadincio l'avevano fatta scivolare verso la parte centrale della classifica. Locatelli, oggi determinazione veramente eccellente. Sì, merito tutta la squadra, più che altro dopo i primi due mesi che ci giravamo tutto bene, si rivedevamo lì su e ci siamo buttati un po' giù, un po' le defezioni, infortuni e abbiamo avuto un momento di calo. Speriamo di riprenderci per i play-off più che altro, se riprendiamo la forma comunque ci possiamo giocare con tutti. Allora, si sa sempre che questo derby, così come voi lo definite, è sempre una partita un po' particolare. Il LN1 ha avuto nel primo tempo l'occasione per rimettere in gioco il tutto, poi voi avete preso il sopravento, avete un po' allungato nella ripresa, si è ripresentata l'occasione sempre all'avversario di poter accorciare le distanze, ma in quel punto ti sei superato. Sì, è stata una partita equilibrata, alla fine degli episodi hanno dato ragione a noi, dopo per fortuna perché fino adesso, gli ultimi due mesi, sono stati negativi anche sotto il punto degli episodi. Speriamo di continuare così, è stata anche una partita corretta, complimenti a tutti e due giocatori e speriamo che continuiamo così, l'unico augurio, e ci alleniamo bene da qui a fine dell'anno. Ecco, fino alla fine dell'anno voi non avrete pause, anche perché il turno di sosta previsto dal campionato l'avete già osservato, per cui per voi fino alla fine della stagione potrebbero diventare tutte finali a questo punto. Sì, è l'obiettivo nostro, impegnarci a dare il massimo ogni partita e poi vedere la classifica a fine dell'anno e sperando di andarsi a giocare si playoff al meglio. Benissimo, grazie anche al portiere della città di Anzio che vince questo confronto contro il LNN1 da Daniele Porcelli. È tutto, a più cordiale, buonasera.